Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Qualcuno ha trovato la Queen Zenobia. Non si è cambiato di una virgola. Sistema di buttamento sacrivole. Il momento è arrivato, O'Brien. Lasciate ogni speranza poiché entrate. È come se i miei ricordi peggiori mi tormentassero. Lasciamo che il fuoco del cielo purifichi la Terra. Con queste soluzioni unilaterali non farete altro che far nascere un altro abelto. O magari dieci. Se... ecco il punto dolente. Sono i gruppi come quello che giustificano la nostra esistenza. Si impone l'immediato contenimento. La posta in gioco è altissima. Lei è cieco. Un umanista senza causa. È una causa persa, direttore O'Brien. Lasciamo stare le cazzate, Morgan. Sta giocando di nuovo col fuoco. Ma questa volta temo che rimarrà scottato. Le faccende in sospeso possono solo peggiorare le cose. Ci pensi bene, direttore. O se ne potrebbe pentire. Ah, diavolo. Non mi deludi mai, Morgan. Ma quando avremo scoperto la verità, non ripeterai più i tuoi errori. Parker! Sì, è ora di indersi. 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 Ah! 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 Cue and I will go in. Grazie a tutti. 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 Vermilion, Parker, Jill, ascoltate bene. La nave è sfacciata. Ma non possiamo permettere che il virus attacchi gli oceani. Io e Jessica siamo diretti alla Queen Zenobia. Tenete duro. Vi contatteremo presto. Non morite lì dentro. Passo. Grazie a tutti. No! 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 Qui, Chris, voi due state bene? Chris! Sì, noi stiamo bene, ma la nave sta affondando! Ci avviciniamo alla Queen Zenobia. Appuntamento sul ponte di Frua. Ricevuto, ti aspettiamo. Ok, a presto. Chiudo. Ti sei certo? Sì. Abbiamo appuntamento nel salone, ricordi? A presto. Sì. A presto. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Perché... ... 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 Registrazione impronta digitale. Registrazione impronta digitale completata. Grazie! Ascendere alla stanza di sterilizzazione uno alla volta. Decontaminazione in corso. Attendere. Ascendere l'apertura delle porte. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché nascondere laboratori su una nave da crociera? È una buona copertura. Chi può sospettare? Non hai torto. Speriamo di riuscire a scoprire cosa stia succedendo. Grazie a tutti. Il virus deve essere in testare a di ricerca. Così è questo il segreto della Zenobia. Speriamo di riuscire a scoprire cosa stia succedendo.